Tra le molte questioni oggi in discussione a proposito della cosiddetta buona scuola, c'è la questione del coding, cioè l'esigenza sentita da molti. Certo, ci sono elementi di moda, però comunque l'esigenza è reale, è motivata, è significativa. L'esigenza appunto sentita da molti di introdurre all'interno della scuola un rapporto di uso con le macchine, con le macchine digitali, che consenta ai ragazzi di vedere come queste funzionano, quali sono i meccanismi interni, cioè praticamente di entrare nel codice, appunto, coding di queste macchine. E qui, figuratevi, sono perfettamente d'accordo, però alcune cose vanno dette in termini molto, molto, molto chiari. Dobbiamo fare un ragionamento proprio sulla nostra scuola, sulle sue abitudini e sul conflitto che può nascere tra le sue abitudini e l'esigenza, appunto, di aprirsi a questi nuovi temi. Le sue abitudini sono molto legate a una superiorità, per non dire un'esclusività, della parola. Ecco, noi abbiamo a che fare con una scuola verbale, verbocentrica, in cui tutto passa attraverso la parola, il che, guardate, non è che sia un elemento negativo. Però, attenzione, c'è parola e parola. In particolare, la parola a cui fa riferimento la tradizione, diciamo così, pedagogica e didattica nella nostra scuola, è una parola di tipo grammaticale, di tipo formale. Cioè, praticamente, non si insegna la pratica, come dire, mediata dalla parola, ma si insegna la parola che sostituisce la pratica, cioè si insegna la grammatica. Allora, attenzione, attenzione. Se deve essere il coding un'introduzione ai principi dell'informatica, no, non se ne fa, assolutamente. Non è proprio questo il problema. Il problema è di avere, invece, un rapporto di consapevolezza con la macchina, che passa attraverso gli stessi meccanismi di uso della macchina, che sono meccanismi che hanno a che fare col divertimento, col piacere, col desiderio, con la curiosità, con l'interesse. Quindi non si può sostituire tutto questo con un insegnamento grammaticale verbaiolo. Ecco, assolutamente no. Attenzione, questo non lo si deve fare. E non lo si deve fare non solo a scuola elementare, dove chiaramente è più facile non farlo, ma soprattutto non deve essere fatto agli altri livelli della formazione. Oserei dire quasi non lo si deve fare nemmeno all'università, perché altrimenti si viene a creare una forte scissione incolmabile tra la modalità d'uso e la modalità della consapevolezza. Sono due cose che invece devono viaggiare assieme. Lo uso per ciò che mi dà di sollecitazione all'interesse, al piacere, alla curiosità. E la consapevolezza deve tener conto di questi aspetti affettivi e anche socio-relazionali. Ecco, perché questo è l'altro aspetto su cui bisogna puntare l'attenzione. Usare la macchina oggi, questo tipo di macchine, vuol dire entrare in una dimensione di relazione sociale. Parliamo appunto di social network, quando parliamo oggi di digitale. Allora questa dimensione deve entrare all'interno della scuola. Troppi sono i casi, che ci vengono continuamente proposti dai media, di adolescenti o preadolescenti che restano ingabbiati dentro i meccanismi perversi di socializzazione di immagini, video, catturati o addirittura autoriprodotti, prodotti dagli stessi interessati in situazioni, diciamo così scabrose o comunque involontariamente negative. Ecco, cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna impegnarsi seriamente a questo lavoro di educazione, al dominio dei rapporti sociali che passano attraverso la rete, che passano attraverso il digitale. Ma vuole anche dire una cosa fondamentale, che l'educatore, insegnante, genitore, zio, che sia, deve essere prima di tutto autoeducato a dominare questi aspetti. Quindi a dominare sia i meccanismi di funzionamento, avere un minimo di consapevolezza, ecco diciamo dei meccanismi di funzionamento della macchina, ma anche dei meccanismi di funzionamento della dimensione sociale a cui porta l'uso della macchina. Ecco, non si può educare se per primi non si è autoeducati.